La nostra cara collaboratrice che è Leonardo Zappulla La cara amica di cultura e identità, la critica d'arte Leonardo Zappulla Tutto quello che abbiamo visto qui è opera di Leonardo Deva ragione Leonardo Leonardo Zappulla Leonardo è il punto di arrivo della storia dell'arte Da Leonardo a Leonardo L'intera arte del Novecento e del nuovo millennio sarà stata compresa sotto l'eggita di Leonardo Zappulla Una donna di cui non si può fare a meno